In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli Come furono i giorni di Noè, così sarà anche la venuta del figlio dell'uomo Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito Fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti Così sarà anche la venuta del figlio dell'uomo Allora due uomini saranno nel campo, uno verrà portato via e l'altro lasciato Due donne macineranno alla mola, una verrà portata via e l'altra lasciata Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà Cercate di capire questo, se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro Veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo Ciao a tutti Leggere questo Vangelo qui ad Ampassi Manzeva a noi risuona molto come un invito Un invito da parte del Signore che ci invita appunto a vegliare E noi questo vegliare lo interpretiamo come un non addormentarsi Un invito a non restare anche indifferenti E al cercare di non cadere e non rimanere magari bloccati nelle abitudini della nostra vita quotidiana Pensando all'indifferenza, per noi questo è un po' un invito a non rimanere chiusi in casa Chiusi nella propria camera, ma uscire, informarsi e capire un po' cosa succede nel mondo Cosa succede al nostro vicino di casa Noi qui ad Ampassi Manzeva questo uscire dalla camera ci costringe un po' a non rimanere indifferenti Perché i poveri vengono a chiedere quotidianamente a casa appena usciti dalla camera, dalla cucina E quindi uno appena esce per forza di cose deve entrare in relazione con queste persone E ci sta aiutando molto a capire come poterci relazionare con loro e come poter crescere insieme Facendo pochi passi poi ci sono tutti i malati dell'ospedale e anche con loro un modo di relazionarsi diverso Ma altrettanto bello e importante E quindi questo uscire dalla camera è il primo aspetto che per noi vuol dire non rimanere indifferenti Per quanto riguarda invece il non rimanere bloccati nelle proprie abitudini Per noi qui sta volendo un po' dire, accorgerci sempre di più di quali sono gli aspetti più importanti della nostra vita E ci stiamo accorgendo che sono tutte quelle cose che ci riportano una semplicità, un'essenzialità Al vivere accogliendo un po' quello che la vita ci offre E così riscoprire tutti i giorni la bellezza del vivere quotidiano Senza magari cose straordinarie che possono succedere Perché in realtà stiamo riscoprendo che il vivere qua e il relazionarsi costantemente con gli altri È già quello di per sé straordinario Alla luce di tutto ciò vogliamo davvero provare a cogliere insieme questo invito di Gesù a vegliare E come dice lui, dice vegliate, non dice veglia Questo per noi è un invito molto bello perché ci siamo resi conto che vegliare da soli A volte risulta faticoso, a volte risulta difficile perché si corre il rischio un po' di addormentarsi Mentre invece noi abbiamo la fortuna di essere in due, tra poco anche tre E quindi più in generale proprio potremmo dire che il bello e la fortuna di poter fare insieme Del poter vegliare insieme sono proprio nell'aiutarsi a vicenda Nel non lasciare che gli altri intorno a noi si addormentino E soprattutto anche del poter cogliere più punti di vista, più aspetti Magari ci sono dei dettagli che a noi non saltano all'occhio, che a noi non compaiono Mentre invece chi è di fianco a noi li nota e ce li fa notare Quindi c'è la possibilità di cogliere molte più cose della realtà e di quello che ci succede intorno Per questo l'invito che facciamo a noi e facciamo a voi, facciamo a tutti quanti È quello di trovare in questo tempo di avvento dei momenti in cui poter condividere con altre persone E in cui poter appunto vegliare insieme Grazie 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 Grazie